E allora, Arrigo Sacchi ne ha sparata un'altra delle sue. Negli ultimi anni diciamo che il buon Arrigo, uno che ha dato il suo contributo a cambiare un po' il calcio mondiale, diciamo che non appare proprio centrato, centrato. Ma cosa ha detto? Leggo, in un'intervista a Sky ha detto che vincere con i bilanci in rosso è rubare. La cosa che mi spacca è che questa dichiarazione è stata presa da tutte quelle testate, anche online, che fanno della convinzione in base alla quale ci sia una concorrenza sleale da parte dei top club italiani nei confronti delle piccole, la loro bandiera e il loro mantra. E quindi io sto leggendo la notizia su torinogranata.it, ma è stata riportata da Il Napolista, eccetera, eccetera. E allora, in questo video cerchiamo di capire perché la dichiarazione di Arrigo Sacchi, cioè vincere con i bilanci in rosso e rubare, è una grandissima fesseria, per non dire altro. Prima di proseguire, cortesemente, ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella, mettere mi piace, soprattutto commentare con la tua opinione, perché è una cosa che mi interessa molto. Allora, intanto, Arrigo Sacchi. Vedi, caro Arrigo, tutti ti riconoscono il fatto, come ho detto io subito nella premessa di questo video, il dato storico, cioè il fatto di aver contribuito a cambiare il calcio. Il tuo Milan era qualcosa di eccezionale. Ho goduto tanto nel guardare quel Milan, ho invidiato tanto quel Milan da tifoso della Juve, perché avrei tanto voluto avere una squadra così forte, così vincente, e anche che giocasse in quel modo lì, motivo per cui, a quei tempi, ma ero molto giovane, quando la Juve scelse Mayfredi, ero così contento perché pensavo fosse quasi un automatismo, no? Viene un sacchiano, la Juve diventa come il Milan di Sacchi. Inutile dire com'è finito. Ma, caro Arrigo, la tua carriera è stata molto breve. La tua carriera è stata breve perché dopo quel grande Milan c'è stata la finale di Pasadena, ai mondiali con l'Italia, e poi non hai fatto praticamente più niente. Sei tornato, ma quel grande Milan l'ha preso poi in mano a capello e l'ha ulteriormente migliorato. Ma, facciamo finta che la cosa che hai detto tu sia corretta, cioè che vincere con i bilanci rossi è rubare. Quindi tu hai rubato. Arrigo Sacchi, tu hai rubato. Hai rubato tanto, perché, anche se a quei tempi, fine anni 80, inizi anni 90, non c'era nessun fair play finanziario, non c'era ancora questa sensibilità. Però il principio è lo stesso, cioè, oggi qual è il problema? Oggi il problema è dire, eh ma in questo modo si falsano le competizioni, perché c'è chi si indebita e chi è inutile. O comunque riesce a tenere una gestione sostenibile. E beh, ma in quegli anni, tu ti ricordi perché non è... Cioè, io ero piccolo, tu eri già adulto, avevi già più di 40 anni, sai benissimo che il Milan di Berlusconi, così come l'Inter di Moratti, prima la Juve di Agnelli, perché poi la Juve riuscì invece a vincere, restando sostenibile, la Juve di Moggi, la tanto bistrattata di Juve di Moggi, però non parliamo di questo adesso. Senza i soldi di Berlusconi, che riempiva di miliardi le casse di tutte le squadre che avevano dei giocatori da vendere, tu non avresti vinto niente, perché vedi, sei stato un rivoluzionario, ma il tuo Parma giocava bene, ma non poteva vincere. Ti servivano i campioni, ti servivano Gullit, ti serviva Van Basten, ti serviva Rijkaard, ti serviva Maldini, ti serviva Baresi, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo Milan, il tuo e quello poi successivo di Capello, era una squadra, era una società che, appena c'era un giocatore forte da qualche squadra, specialmente italiana, lo prendeva, poi aveva stato il primo ad avere le rose amplissime. In tempi in cui non c'era ancora la Champions League, in cui ci sono tantissime partite, c'era la Coppa dei Campioni, dove anche se vincevi giocavi sei partite, sette partite, ora non ricordo con esattezza, non è come adesso, che ci sono tantissime partite ogni stagione, quindi le rose lunghe sono necessarie. Quindi, Sacchi, tu hai rubato? Vedi che già inizi a perdere un po' di senso, quello che tu hai detto. E poi vediamo un ulteriore discorso, il calcio attuale non è sostenibile, lo disse André Agnelli, anche in questo caso, Nemo Profeta, e ora lo stanno vedendo tutti. Non è un caso che anche Seferi, in quello che sta facendo, cioè questa nuova formula della Champions League, atta a far guadagnare di più i club, sia un'invenzione, perché il calcio è affamato di denaro. Non è il calcio affamato di denaro, e la gente che è affamata di quel tipo di spettacolo che è troppo costoso. E le società, i top club, non sono sostenibili. Vedi, senza debiti le società non attirano campioni, perché è vero tutto, è vero che il Napoli ha gli bilanci sani, poi vediamo se quanto questo sia vero, ma è anche vero che il Napoli deve ogni anno vendere, è anche vero che il Napoli non può trattenere i suoi campioni, perché poi vanno via. La gente va allo stadio, la gente compra gli abbonamenti quando ci sono i campioni. Oggi si parla tanto di calcio italiano non è più a livello della Premier, ma la Premier è grande perché ha i soldi, non perché è in equilibrio, anzi, ci sono persone che mettono soldi, questi soldi alimentano un circolo virtuoso, che poi virtuoso non è, perché tanto comunque i debiti sono tanti, e allora la gente si interessa al calcio, un calcio povero, come lo vorrebbero quelle società che a mio parere e quei tifosi a mio parere in realtà hanno un modo di ragionare di tipo comunista, cioè dovremmo essere tutti uguali, cioè ci sta, nel senso che si può dire e facciamo come altri sport, ogni squadra ha un budget, ogni squadra può fare, possiamo anche mettere la regola che i conti di tutte le società di calcio debbano essere in equilibrio, a mio parere ci può anche stare, ok, ma non sarebbe neanche corretto, non potrebbe essere neanche giusto, perché i top club hanno più tifo, hanno più seguito, devono attirare i campioni e nel mercato attuale i costi non sono sostenibili, quindi prima di dire queste cose, vincere con i bilanci in rossa rubare, bisognerebbe azionare un attimo il cervello e cercare di capire che o si creano regole chiare per cui tutti, ma quindi parliamo anche del Citi, quindi parliamo anche del PSG, parliamo di tutte le società devono avere dei criteri ma veri, non come il fair play finanziario che c'è stato fino ad oggi che poi è modificato ma tanto alla fine si è visto che chi vuol fare quel che vuol fare lo può fare comunque oppure si accetta il fatto che i debiti per un'azienda sono oserei dire naturali sì è vero le aziende calcistiche sono delle aziende particolari perché di mezzo ci sono i risultati sul campo quindi ma sono aziende a tutti gli effetti ora non vorrei turbare i pensieri di chi ci segue e non ha mai gestito un'azienda anche solo una partita IVA ma quando si ha un'azienda si possono fare dei debiti l'azienda può avere utili può avere debiti i debiti sono sostenibili fin tanto che si riescono a risanare a ricoprire il problema è quando non si riescono più a risanare che succede una cosa bruttissima che è il fallimento ora io ho cercato dei dati che vado a leggere negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha fatto 18,8 milioni di passivo che sono pochissimi ma sempre passivo la Lazio ha fatto 21 milioni il Napoli 24 quindi anche il virtuoso Napoli comunque ha rubato in questi dieci possiamo dire seguendo il teorema sacchiano che il Napoli in questi dieci anni ha rubato perché ha perso 24,4 milioni la Juventus ovviamente è una delle società che ha fatto più debiti in questi in questi anni debiti è una parola diciamo che ha avuto perdite in questi dieci anni di 591 milioni di euro ma la Roma fa peggio perché ha fatto 834 milioni ma il Milan fa peggio perché ha fatto 910 milioni e l'Inter batte tutte con 963,8 milioni di euro di passivi accumulati in questi dieci anni non è la fonte non è Juventus News 24 ma è uno studio di PricewaterhouseCoopers e ho riportato un post del 2 marzo del 2023 pubblicato da Sky che è l'Inco quindi cito la fonte ok quindi vogliamo dire che allora l'Inter in questi anni in questi dieci anni ha vinto uno scudetto e credo due coppe Italia e le ha rubate quindi perché con 900 e passa milioni il Milan ha vinto uno scudetto che quindi ha rubato la Roma non ha vinto niente quindi ha rubato ma non ha rubato ha provato a rubare la Juve con 591 milioni di euro quindi ha rubato 9 scudetti e svariate coppe Italia e qualche supercoppa il Napoli come abbiamo detto ha rubato lo scudetto certo se ci limitiamo all'anno dello scudetto allora sì ma capite che sono discorsi veramente inutili quello era l'altro dato fammi vedere l'altro dato che avevo visto allora l'ultimo confrontando Inter Milan e Juventus il risultato operativo dell'ultimo bilancio chiuso è meno 40 per l'Inter più 14 Milan meno 99 per la Juve insomma dati assolutamente negativi certo ma la Juve sta rubando qualcosa no perché le regole non dicono che la Juve sta rubando perché perché la Juve ha una proprietà che come in tutte le aziende quindi gli azionisti coprono i debiti non è un reato non è un reato se le regole sono quelle dite sempre che bisogna rispettare le regole voi gobbi non rispettate parliamo di regole ok se la Juve non mi risulta si ha avuto degli avvisi aveva dovuto fare degli accorti con l'UEFA e sappiamo bene però non è stata sanzionata per il fair play finanziario come in passato sono state fatte altre squadre quindi la Juve non sta commettendo nessun reato ma la stessa Inter con i suoi 900 e passa milioni di euro di debiti in realtà non sta rubando niente a nessuno mi costa dire questo soffro nel dire questa cosa perché sarebbe facile dire voi rubate no semplicemente l'Inter oggi non ha più una proprietà che può garantire quei debiti ma ha il supporto della finanza cioè ci sono delle chiamiamole altre aziende che per mestiere prestano i soldi alle aziende le banche ok quindi ci sono vari strumenti finanziari le obbligazioni eccetera cose complesse da capire però la logica invece è semplice la logica è del tipo quando una società ha dei debiti li deve coprire come li ricopre o rifinanziandosi con tramite gli azionisti o rifinanziandosi facendo debito ulteriore perché poi questi debiti vanno ripagati perché hanno degli interessi ma è tutto cioè funziona così anche Stellantis funziona così anche la Apple posto che la Apple probabilmente non ha bisogno di ricorrere a strumenti di debito non lo so ma funziona così non è un reato poi possiamo dire è però qui abbiamo una competizione sportiva che risulta in qualche modo falsata ma allora è falsata tutta la storia del calcio perché anche il Real Madrid il Barcellona il grandissimo Barcellona per arrivare a costruire quel grande Barcellona forse la squadra più forte di tutti i tempi quella di Neymar Messi Iniesta Xavi eccetera eccetera ha accumulato debiti miliardari quindi ha rubato ha rubato il Barcellona ma stiamo scherzando quindi il calcio è sempre stato così anche nei periodi di Sacchi è sempre stato così ok si fanno i debiti un tempo erano i presidenti mecenati che li coprivano oggi sono o le proprietà o la finanza perché il calcio è diventato un gioco molto grande vogliamo cambiarlo? mi va benissimo ma fin tanto che il calcio non viene cambiato a livello regolamentare vincere con i rossi di bilancio non è assolutamente rubare quindi Sacchi hai detto una minchiata quindi e anche chi sta riportando la notizia di Sacchi si alimenta di minchiate che poi capisco e va bene così ma è una cosa molto triste grazie per il video metti like al video commenta con la tua opinione che mi interessa molto anche e soprattutto se non sei d'accordo con me e ci vediamo in un prossimo video ciao grazie a tutti